Tu vieni qui perché pensi di trovare loro, invece trovi una situazione totalmente diversa. Negli ultimi anni c'è stato un fiume di italiani che è arrivato qui. Il volo per l'Australia era un volo da fare al momento perché non c'erano più le condizioni per rimanere. C'è quella nuova che è pronto, ok? I ragazzi che vengono adesso è un po' difficile per trovare il lavoro. Sono arrivato qui nove mesi fa, vengo con mio fratello, siamo baristi. Non ci vuole tempo per capire veramente il posto. Probabilmente appena è iniziato il flusso, il grande flusso migratorio. Probabilmente neanche mai finito.